mi allungo verso l'alto apro bene le spalle sono pronta per mi preparo per lasciare questo contatto delle mani col mio bimbo la mia bimba sapendo che il contatto rimane all'interno e per tutta la pratica e sempre estendo le mie braccia allungo le braccia verso l'alto congiungo le mani e recito ommo mentre le mani scendono prelievo degli ovociti per via transvaginale sotto controllo ecografico in sedazione profonda quindi quello che facciamo l'anestesia preparazione del liquido seminale sei tu gli ovociti prelevati saranno inseminati in vitro e iniettiati con gli spermatozoi trattati a te li trattano per aumentare la possibilità a favorire le capacità fecondante in seguito due sei giorni gli embrioni saranno trasferiti in utero per via transvaginale in questo momento sono ancora in coltura sono stati iniettati dieci ovociti e tutti si sono secondati verranno seguiti fino alla quinta festa giornata di coltura e quelli che arriveranno allo stadio di plastici saranno più conservati quindi a oggi è prematuro è ancora prematuro non si sa no a di shakti a di shakti a di shakti a di shakti namo namo sadama shakti sadama shakti a di shakti a di shakti